Tanti visitatori nel fine settimana a Montemiletto per la settima edizione di 1419, Siqua, Fata, Sinant, la rievocazione storica medievale con l'assalto al castello. Una a tre giorni ricca di eventi, spettacoli che hanno attirato tanti visitatori anche da fuori provincia. Dallo spettacolo degli sbandieratori e trombonieri alle botteghe degli antichi mestieri lungo le stradine del centro storico. Ed ancora spettacoli con falchi, serpenti, danze, musici che hanno arricchito ancora di più l'atmosfera, realizzando così un vero e proprio tuffo nel passato. Ad impreziosire le serate l'accampamento dei soldati, figuranti che hanno attraversato le strade e i vicoli del paese. Una a tre giorni dunque ricca di eventi durante la quale i visitatori sono stati immersi in un'esperienza unica che di anno in anno, edizione in edizione, si arricchisce sempre più e che si sviluppa nel cuore di Montemiletto, dominato dal maestoso castello della Leonessa.